Prendila! Lass'la delle cazze! Owen! Ehi. Ciao. Va tutto bene? Sì. È un brutto momento. No, no. Allora, che c'è? Abbiamo ordini? Quasi. Quasi. Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto? Owen. Da quanto non venivi qui? Guardati intorno, ammira. Cosa hai fatto? Ma sai, ho tagliato i rampicanti, ridipinto le bareti. Beh, sembra complicata. Non toccare. Abigail. È un esperimento scientifico. Più o meno. Distillo alcol di prima qualità. Puoi averlo, se fai la brava. Che privilegio. Hai iniziato a tirare con l'arco. Non direi. molto tropicale. Dove l'hai trovato? Ricordi il negozio di articoli da festa? Non è stato per niente facile portarlo fino a qui. Stai disegnando sul murales di Max? Lo abbellisco. Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci. Oh! Il mese scorso si è unita a un'altra luce. Ex-luce. Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara. E ci sono prove a supporto di ciò? No. Ma come? Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che possa piacerti. È piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci sto. Tranquilla. Uno in meno. Sono fiero di te. Meno due. È ancora lunga. Ah, buon per te. Ah. Accidenti. Cinque. Siamo a metà, Abbie. Ancora due. Tranquilla. Sento quasi un'altra. Sento quasi un moto d'orgoglio. Te ne manca solo uno. Non sbagliare. Non sbagliare. Non sbagliare. 30 secondi. Cazzo, ce l'hai fatta. Punteggio massimo. Ho ancora tempo. Ho ancora tempo, giusto? Sì, ma... Allora non ho finito. La solita arrogante, eh? Mi piace. Mancano dieci secondi. Mancano dieci secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno... Ce l'ho fatta. Al primo colpo. Che ne dici ora? Sì, grande. Sei piena di talenti. Sta zitto e scrivi il mio nome. Lo farò. Dopo. Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No. Non le importa. Allora, segnami sulla lavagna, Owen. Ok. Calmati. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Vieni di sopra. È il cadavere del Capitano. L'ho visto la volta scorsa. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Cosa? No. Cioè, non è male come idea. Dopo di te. Wow, complimenti. Che lusso. Non hai ancora visto niente. Accomodati. Goditi il panorama. Prendi. Non hai ancora visto niente. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Per lei, Porce. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è... Il nostro anniversario, quindi... Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Che io? Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna... Ho trovato il fratello di Joel. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto dieci anni fa? Sì. Quindi... L'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fossi lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso. Sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate! Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel? Ehi. O insieme o niente. Giusto? Certo. O insieme o niente. 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 No, no! No, no! No, no! No, no! 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 Danny! No! 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 Non c'è l'unico! Ho fatto che la faccia? Ayy! aveh! Aaaaah! Eeeee! Di qua! È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui? Andiamo, Lea. Aprile. Basta. Forza! Solo, vieni. Tu... A il mio zanno! Grazie a tutti. No, no, aspetta! Aspetta, puoi state bene. Si. Aspetta. 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 Asset. Vite a me! No, 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 no. Preparati! Occhio dietro di te! E ora... ...mi sembra la direzione giusta. Ti sembra? Non sei costretta a seguirci. Preferireste che vi abbia perdonato qui. Pensiamo... Pensiamo anche... Vi faccio passare, voi aprite il cancello. Va bene. Forza. Tocca a te. Occhio al braccio. Cazzo! Fai presto! 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 Come procede là fuori? Ehi, vieni qua, vieni da me siete! Ehi! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Lupo! Lupo! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Il braccio! Lo so, pensa a respirare! Inspira, ispira, ispira! Proviamo le porte! Controlliamo se ci sono infetti! Non si apre! Prova le altre! Ehi, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Ehi, vieni qua! Come ti chiami? Come ti chiami? Ehi, vieni qua! Poi... Ce la caveremo! Sì! Ehi, vieni qua! 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 Ehi, vieni qua!